Il mio piano funziona alla perfezione Attenzione, cari cittadini di Adventure Bay Dentro alla super cupola di energia Posso fare tutto quello che voglio E nessuno può entrare o uscire Qui serve la pompa troll Cuccioli, Copycat si trova in cima alla cupola È ora di attivare la modalità volo Non lo vedo da nessuna parte, Ryder Scommetto che è tornato dentro Deve esserci una porta nascosta da qualche parte Ha trovato un punto di ingresso, Ryder, vicino al porto Zuma, Marshall, è giunta l'ora di ricaricarsi Sono all'interno della cupola, Ryder Ho individuato Copycat Non per molto Mi sto attaccato alla coda È ora di fare un'uscita di classe Eccolo lì Ed ecco la porta È il momento di caricarsi Super forza a tempo di rock Siete stati fantastici Non vi ringrazierò mai abbastanza per averci liberati da quel terribile Copycat Ogni volta che siete intrappolati sotto una cupola gigante, noi siamo a disposizione Guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon Grazie a tutti